Una prelibatezza delicata, cavolo glassato all'arancia con guarnizioni croccanti. Prima, prepara cavolo, zucchero di canna, succo d'arancia, sale, aceto bianco, semi di senape, semi di finocchio e burro. Rimuovi le foglie esterne del cavolo, taglialo a metà e rimuovi il toro. In una pentola, sciogli il zucchero nel succo d'arancia e nell'aceto fino a formare una glassa. Spennella il cavolo con la glassa, in forna a 180 gradi Celsius per 40 minuti, girando e riglassando ogni 10 minuti. Servi il cavolo su un piatto, cospargilo di semi di senape e finocchio tostati, completa con un filo di burro fuso.